buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento con il canale fed virus della fondazione fed stroke benvenuto anche alla nostra ospite di oggi che la dottoressa antonella lezzo antonella con uno con due z una sola immagino sia un errore frequente no allora questo appuntamento un appuntamento speciale perché si inserisce all'interno di alcune conversazioni che avevamo avviato già l'anno scorso che erano rientravano nel cappello del tema insieme per non perdere il filo quindi una serie di conversazioni di cui abbiamo già registrato due puntate che trovate sul nostro canale fed virus che riguardano la nutrizione in collaborazione con danone nutricia oggi continuiamo questa conversazione e la continuiamo proprio in occasione della celebrazione di questo periodo particolare che è questa prima settimana di febbraio quella che in inglese si chiama la feeding tube awareness week quindi la settimana internazionale della nutrizione persona per cui oggi parleremo sì di nutrizione e tematiche legate in particolar modo ai bambini con paralisi cerebrale infantile ma poi tratteremo anche altre problematiche come la disfagia e poi fino ad arrivare appunto a temi più specialistici quindi ci fa piacere avere la dottoressa antonella lezzo un facciamo subito un patto d'aula quindi ci diamo del tu così siamo più comodi bene l'altra informazione di contesto è che io rappresento un po questa comunità di genitori che per quanto sia estremamente informata attiva anche online sicuramente non ha una preparazione tecnica o specialistica quindi l'obiettivo di questi incontri è proprio parlare con gli esperti per approfondire quei temi di cui solitamente rimangono delle delle dovande in evase durante il colloquio in in ambulatorio quindi cerchiamo di essere il più semplici possibili ma andando a chiarire anche temi e termini che ci sembrano già sodati perché fanno ormai parte del nostro patrimonio ma che probabilmente non conosciamo così bene è vero è vero ma io sono sono contenta di aver ricevuto questo invito e vi ringrazio semplicemente perché penso che le associazioni di pazienti in modo particolare devono essere nostri alleati no in questa nostra battaglia perché la nutrizione è un argomento tanto caro a tutti però non valutata a sufficienza e spesso diciamo trattata compresa pochismo cosa che quando si hanno degli obiettivi ambiziosi non non si presta bene a svolgere il suo ruolo no adesso c'è sempre più attenzione nei confronti della della nutrizione che questa sia il più adeguato possibile addirittura addirittura raffinata potremmo dire ecco rispettosa dell'ambiente no delle risorse rispettosa di di tutto non soltanto della diciamo della scientificità o degli apporti in senso strettamente tecnico ma della qualità di vita del paziente del modo di vivere del rispetto del diritto di vacanza del diritto di poter continuare a lavorare del diritto di andare a scuola tutte cose che di fatto sono possibili grazie agli sviluppi che la scienza di nutrizione clinica ha attuato con il supporto dell'industria con il supporto anche della nostra sanità che ci permette di fare ovviamente un lavoro egregio diciamo che siamo anche privilegiati rispetto a qualche anno fa no sì siamo privilegiati e vi ricordo un dato molto semplice che ho scoperto un po di anni fa quando preparavo una una relazione sulla nutrizione artificiale domiciliare e scoprivo che nei paesi dove il diciamo il budget della sanità è al di sotto di una certa percentuale la nutrizione artificiale domiciliare non esiste e quindi cominciamo a dire dei dati diciamo grossolani però che sono la base il fondamento e quindi questo ci obbliga da un lato ad essere contenti appunto ad essere consapevoli della della possibilità e dei privilegi che abbiamo e dall'altra però ci investe di responsabilità nell'utilizzarli correttamente e non sprecare risorse è vero torniamo proprio al tema delle delle risorse facciamo un passo indietro Antonella ci racconti qualcosa di te la tua formazione così almeno inseriamo nel contesto di questa conversazione e dove stai operando adesso in quale in quale zona d'italia sì io lavoro sono responsabile del servizio di dietetica e nutrizione clinica pediatrico dell'ospedale regina margherita di torino che fa parte del azienda ospedaliera universitaria città della salute e della scienza di torino lavoro in piemonte dove si sa la nutrizione clinica in modo particolare la nutrizione artificiale domiciliare è svolta condotta con criteri di eccellenza e siamo una delle realtà delle poche realtà di eccellenza in italia questo grazie alla sensibilità che la regione piemonte ha sempre avuto nei confronti della nutrizione questo lavoro iniziato nel lontano 1984 come sperimentazione clinica e poi è diventata legge regionale e quindi noi abbiamo una legge regionale che ci guida in tutto quello che riguarda la nutrizione artificiale che definisce oltre ai diritti anche i doveri di pazienti del centro prescrittore soprattutto individua i centri prescrittori che sono i centri esperti e solo questi centri esperti nella nostra ragione possono prescrivere e monitorare e gestire la nutrizione artificiale domiciliare questa è una condizione veramente di di privilegio perché permette di lavorare con i criteri di di massima diciamo tecnicità non so e anche in un contesto controllato regolamentato contesto controllato che da un lato il paziente permette ogni anno e per chiunque sia da ovunque sia residente nella regione abbia gli stessi diritti e le stesse gli stessi presidi garantiti che abbia una un follow up una gestione esperta da parte del centro noi siamo reperibili cinque giorni lavorativi alla settimana in orario d'ufficio per i pazienti per le famiglie per qualsiasi problema e siamo reperibili sette giorni su sette per invece nutrizione parenterale domiciliare e questo è ovviamente abbiamo anche fatto un un indagine una survey di soddisfazione delle famiglie sia di nutrizione parenterale sia nutrizione artificiale abbiamo avuto delle belle soddisfazioni dei risultati molto molto buoni ovviamente l'abbiamo fatto anche per capire dove bisogna migliorare certo dove stavate andando e come ci stavate arrivando dici anche qualcosa su di te sul tuo sul tuo background sulla tua formazione perché si fa spesso confusione anche sui ruoli no la figura del medico la figura del medico nutrizionista la figura del gastroenterologo ti ringrazio di questa ti ringrazio di questa precisazione perché è molto molto importante io sono medico chirurgo sono specializzata in nutrizione clinica in scienza alimentazione con indirizzo nutrizione clinica sei anni di studio più quattro anni specializzazione sì sì e ho iniziato a non avevo pensato di lavorare in pediatria devo dire la verità poi durante la mia frequenza durante la specialità la residenza in pediatria ho visto che c'era tantissimo da fare a differenza dell'adulto questo succedeva nel lontano 2002 e ho visto che invece in ambito pediatrico c'era moltissimo da fare e quindi mi sono poi appassionata questo e mi sono fermata in pediatria devo dire in questi vent'anni abbiamo fatto davvero un lavoro enorme enorme adesso la nutrizione clinica è presente in tutte le specialità dalla terapia intensiva neonatale fino alla chirurgia ai trapianti d'organo ai trapianti di midollo osseo ovviamente il nostro la nostra punta di diamante e la nutrizione artificiale domiciliare con in modo particolare l'insufficienza intestinale la nutrizione parentale domiciliare che sono veramente delle aree di di vera eccellenza in campo in campo medico arriviamo a parlare anche di questo quindi l'etichetta corretta è medico nutrizionista se si vuole dire così esattamente diciamo correttamente sarebbe dietologo ok che differenzia il tecnico che si occupa di nutrizione e che si chiama dietista ok quindi era questa la la distinzione che ci serviva per poi anche trovare in realtà in realtà sono sinonimi sono sinonimi però ho specificato il termine dietologo che identifica proprio il medico che si occupa di nutrizione clinica perché il termine nutrizionista viene utilizzato da diverse figure anche da biologi nutrizionisti o altre formazioni che non sono non appartengono al mondo della medicina quindi su questo ci tengo a fare chiarezza ora più chiaro senti entrerei subito nel nel cuore della nostra conversazione parliamo di piccoli pazienti parliamo con pazienti con disabilità neurologica per cui la prima domanda è quali sono gli obiettivi che ha l'alimentazione in questo tipo di pazienti e questo tipo di pazienti proprio per quanto riguarda l'alimentazione differisce invece rispetto a quelli che sono gli obiettivi dell'alimentazione dei pazienti senza disabilità bello iniziare da proprio dalla normalità diciamo così l'alimentazione in realtà nei bambini con neuro disabilità ha lo scopo di assicurare tutti i nutrienti necessari e l'apporto calorico sufficienti per garantire la crescita e non solo la crescita staturo ponderale ma anche lo sviluppo fisico e neurocognitivo e in questo io ho fatto un'affermazione che fin qui non si distingue non si differisce da quella da quello che è lo scopo della nutrizione in un bambino con sviluppo normale ok mangiamo per crescere mangiamo per essere funzionalmente adeguati ok può sembrare banale ma non lo è e non lo è per due motivi principali il primo è che riuscire a farlo nel paziente con neuro disabilità non è potrebbe non essere semplice e non è semplice in realtà neanche nel bambino sano ok avere una nutrizione adeguata per quantità e qualità rispetto a quelli che sono i fabbisogni l'altro motivo è un motivo un po più tecnico e afferma che le linee guida o i vari consensus quindi dati più scientifici in merito allo sviluppo dei bambini con neuro disabilità non identificano dei fabbisogni sostanzialmente diversi da quelli dei bambini con sviluppo normale quindi questo è il secondo motivo per cui ho fatto questa affermazione ovviamente occorre tener conto poi di particolari condizioni nel bambino con neuro disabilità che possono alterare questi fabbisogni come possono essere le contratture muscolari o la ridotta mobilità che ovviamente si poi perfezionano attraverso il follow up e il monitoraggio è pertanto fondamentale che questo monitoraggio avvenga fin da subito e possibilmente tenendo conto non soltanto della crescita staturo ponderale ma soprattutto delle capacità funzionali di questi bambini perché sono fondamentali in questo caso e tu dicevi su questo negli ultimi anni sono fatti tanti passi avanti tanto che voi accompagnate la mamma e il bambino già dalla terapia intensiva nel Natale per cui c'è un affiancamento fin dalle prime fasi di sviluppo quindi nel caso proprio e capita per fortuna sempre più spesso che la diagnosi sia anticipata penso nel caso dei bambini con paresci cerebrali infantili che quindi ci siano già dei campanelli d'allarme spesso i campanelli d'allarme sono anche relativi a quest'area no come il bambino si attacca al seno quindi quali sono le problematiche più frequenti che vengono riscontrate da questo punto di vista su questi bambini e nelle diverse fasi di sviluppo perché poi immagino certo con la crescita allora devo fare una premessa cioè quella che lo stato nutrizionale è la base per garantire la salute e non solo fisica ma anche le performances in questi pazienti ok questo non lo dobbiamo mai dimenticare l'abbiamo già detto in apertura no all'inizio di questo non dobbiamo darlo né per scontato e non dobbiamo neanche ritenere che sia invece da sottolineare da trascurare no e considerare la malnutrizione come parte di questa patologia perché così non dovrebbe essere e adesso vediamo nell'arco di questa chiacchierata dichiarirlo meglio volevo dire che l'elemento importante da sottolineare è che la malnutrizione correla con la severità della compromissione neurologica ecco spiegaci bene questa frase cosa vuol dire ecco questa è una una correlazione a doppio senso e significa che la patologia condiziona la lo stato nutrizionale quindi più è severa la patologia più lo stato nutrizionale ne viene influenzato e ne può risentire ma è vero anche il contrario ovvero che la malnutrizione peggiora le capacità funzionali e la qualità di vita e la salute in generale del paziente con neuro disabilità per rischiamo che si meschi un lupo per cui se mangio male poi sto male le mie performance non sono adeguate esattamente esattamente quindi mi premeva fare questa precisione perché e noi da qui dobbiamo partire no ed è questa la cosa alla quale io personalmente ma anche tutto il gruppo con cui lavoro dedichiamo veramente tanta fatica e tante risorse e spesso non ci sentiamo così ben capiti ecco allora assolutamente necessario fare chiarezza su questo però mi sembra soprattutto in italia un tema questo su cui le mamme italiane hanno massima attenzione quindi mi sarei aspettata che di vedere questa alleanza già in corso fra il medico dietologo e la famiglia sicuramente c'è l'attenzione c'è il problema è quando poi bisogna prendere delle decisioni fare qualcosa per essere attivi nel attuare una nutrizione adeguata allora lì poi il problema diventa un po più complicato e la percezione dell'importanza della nutrizione a mio parere non è ancora come dovrebbe essere ok ok va bene siamo qua anche per questo quindi per alzare questo livello di conoscenze questo è molto importante perché lo scambio alla pari quindi di genitori che hanno lo stesso problema è fondamentale è di aiuto prezioso veramente dicevamo dei problemi che possono comparire il primo tra tutti quello più frequente è la disfagia questo può comparire precocemente a volte anche dalla nascita ma soprattutto può avere una evoluzione subdola e quindi nascondere molte insidie su questo vogliamo dire due parole poi ci torniamo sul tema disfagia però quali sono i campanelli d'allarme affinché anche i genitori che si trovano in questa situazione come se ne possano riconoscere un'eventuale problematica come si fa ad accorgersene allora per questo è fondamentale come sottolinea l'ultima consensus dell'ESPGAN in merito ai problemi gastrointestinali e nutrizionali nei bambini con neurodisabilità la cosa fondamentale è la valutazione multidisciplinare di questi bambini vuol dire oltre al nutrizionista dietologo e dietista deve esserci presente il pediatra deve essere presente la logopedista deve essere presente la fisioterapista e possibilmente anche lo psicologo oltre a tanti altri che magari la neuropsichiatra infantile che ce l'ha in cura esattamente dicevo che può avere appunto uno sviluppo subdolo perché può presentarsi con sintomi tipici come quelli diciamo sono correlati direttamente alla disfagia come lo stridore, come la tosse durante i pasti però può presentarsi anche con sintomi del tutto a specifici il pianto, l'irritabilità che sappiamo essere un tema molto importante nel caso dei bambini con problemi neurologici esattamente, quindi è importante che se la valutazione del paziente viene fatto da un team esperto queste cose anche se sono non riferite vengono fuori perché lo chiediamo alla mamma non deve essere la mamma che ci viene a dire guardate mio figlio tossisce ogni volta che mangia ogni volta che beve ok? questo però non è, io lo sottolineo perché purtroppo non è così facile da attuare nel senso che abbiamo sempre da combattere come tutti con le risorse e con il tempo e con le difficoltà però sappiamo almeno dove vogliamo arrivare e dove è possibile questo è ovviamente rappresenta il gold standard ok la prima difficoltà, la prima diciamo manifestazione della disfagia solitamente è quella per i liquidi ok? liquidi vuol dire anche latte quindi? anche in fase iniziale di? perché i liquidi hanno la capacità di andare ovunque e sono difficili da trattenere insieme mentre il bolo cremoso rimane più legato in bocca e può essere gestito con facilità i liquidi vanno ovunque e quindi bisogna essere più competenti, avere delle competenze orali buone quindi è strano che noi iniziamo lo svezzamento più tardi con qualcosa di solido beh l'apparato orale del bambino è ovviamente predisposto a questo però poi l'interruzione della normalità fa in modo che questo sia il primo anello a saltare questo si può correggere ovviamente attraverso l'utilizzo degli addensanti che sono delle polveri senza gusto, senza odore, senza sapore per cui si possono semplicemente aggiungere all'acqua senza che cambi la loro anche senza apporto calorico quindi? anche senza apporto calorico o molto molto minimo perché sono comunque delle fibre a base di amido che invece hanno la capacità appunto di rendere un pochino più consistenti i liquidi, tutti i liquidi ora la consistenza delle bevande addensate non è necessariamente gelificata perché siamo abituati a diciamo associare subito il concetto dell'addensante all'acqua gelificata non è necessario che sia gel, gel vuol dire l'ultima consistenza ottenuta cioè il cucchiaino o il cubetto che si è prelevato sta in piedi da solo come fa il gel potrebbe semplicemente essere, avere una consistenza sciropposa e questo permette già di tenere più insieme sempre liquida però più addensata sempre liquida ma sciropposa questo è importante da sapere perché spesso i genitori si rifiutano di somministrare anche l'acqua addensata perché pensano che i bambini possano non gradirla, possano un piacere allora ci sono degli accorgimenti semplici come per esempio proporre queste bevande fresche da frigorifero non magari a temperatura ambiente oppure addensare altri liquidi come tisane, come succhi di frutta che possono essere ovviamente più gradevoli, più graditi e questo ci è molto utile perché uno dei problemi principali che questi bambini hanno più ovviamente manifesta la disfagia e più questo problema diventa importante è il ridotto apporto di liquidi quindi è importante che loro trovino una strategia per somministrare questi liquidi dicevi anche lo stesso avviene a proposito del latte anche non solo per e quando il bambino è allattato al seno quindi non è attraverso la formula anche su quel caso lì si può allora se la disfagia è documentata se la logopedista ci avverte che il liquido non viene ben gestito e c'è la, noi chiamiamo penetrazione nelle vie aeree di goccioline di liquido che invece di andare nell'esofago prendono l'altra via a fianco adiacente che è quella della trachea dei bronchi allora è obbligatorio che non ci sia più l'allattamento al seno ma il latte materno può essere tirato e ispessito con l'ispessente che è particolare e che si usa nei primi anni di vita poi ci sono man mano diverse formule esistono delle consistenze pronte per esempio l'acqua densata o l'acqua gelificata ma esiste anche appunto la polvere da ottenere la densità che è più indicata al proprio bambino dicevo che è importante questo apporto idrico perché l'altra caratteristica l'altro problema che incontriamo molto spesso nei bambini con neurodisabilità è la stipsi esatto e la stipsi è uno dei problemi diciamo che colpiscono la stragrande maggioranza dei pazienti direi forse non se ne non se ne salva nessuno ecco da questo problema bisogna anche ricordare che il trattamento cosiddetto classico cioè con l'utilizzo di fibre o di lassativi potrebbe essere non soltanto non efficace se non c'è sufficiente apporto di acqua ma a volte dannoso perché? perché questi bambini hanno spesso una dismotilità cioè un'alterazione della capacità dell'intestino di contrarsi in modo sistematico periodico come fa normalmente l'intestino e quindi se noi diamo tante fibre possiamo creare un impatto intestinale difficile da togliere se non c'è sufficiente apporto di acqua quindi non dobbiamo dimenticare l'acqua che spesso appunto è difficile concede poco spazio all'apporto corretto di acqua anche il reflusso gastroesofageo perché quando il bambino è sempre lì che fa un rigugitino o addirittura il vomito viene voglia di dare meno possibile e quindi quello che si penalizza per primo perché vogliamo dare il latte vogliamo dare l'alimento quello che si penalizza è l'acqua e poi ci troviamo appunto in un circolo vizioso dove meno bevo meno riesco a far funzionare bene l'intestino più ho bisogno di una macchina complicata e meno mangio perché un intestino che non funziona non permette neanche di alimentarsi poi non mangio esatto dicevamo una macchina complicata che si interrompe un equilibrio sì esatto questo poi l'altro problema un problema che è sia diciamo un segno indiretto della disfagia se vogliamo sia una manifestazione vera e propria della disfunzione orale che caratterizza la patologia neurologica è il prolungamento della durata dei pasti spesso le famiglie le mamme in particolare ma anche i papà perché ormai i papà sono parte attiva non è più da escluderli passano molte ore della giornata a cercare di alimentare i propri bambini che fanno fatica ad alimentarsi questo da un lato diventa frustrante per i genitori dall'altro lato toglie tempo utile a tante altre buone attività che possono essere riabilitative ma anche solo divertenti anche solo anche forse nelle fasi di gestione e quindi di avvicinamento al passo successivo poi anche ecco ma soprattutto ma soprattutto diciamo tralasciando volendo anche l'aspetto un po' filosofico sono fonte veramente di stress e di fatica e quindi e questo è il motivo per cui l'ESGAM l'ultimo consensus del 2017 ha promosso diciamo così questo elemento quindi il prolungamento della durata dei pasti oltre le tre ore come un'indicazione alla nutrizione artificiale ok oltre le tre ore per il singolo pasto no per tre ore nella giornata nell'arco della giornata quindi vuol dire che la colazione il pranzo la cena devono rientrare in queste ovviamente non bisogna prenderlo diciamo alla lettera però significa che se io tra colazione pranzo spuntino e cena dedico più di tre ore della mia giornata significa che c'è qualcosa che non va e questo poi è un motivo per l'instaurarsi della malnutrizione ovviamente perché si riducono gli apporti e si rientra di nuovo in uno di quei circoli viziosi di cui dicevamo prima quindi più il bambino è debilitato più è malnutrito e meno mangerà meno avrà appetito e meno avrà la capacità anche di alimentarsi oltre all'appetito la malnutrizione anche è uno dei problemi stavamo facendo così in ordine un po' un eletto dei problemi la malnutrizione è anche un problema che coinvolge quasi la totalità di bambini con neurodisabilità perché definiamo malnutrizione vuol dire che il bambino non assorbe un adeguato apporto calorico come si definisce? no la malnutrizione è una condizione patologica è proprio una un'entità nosologica che si definisce come un disequilibrio tra fabbisogni e apporti che può manifestarsi con alterazione delle funzioni corporee e con oltre all'arresto della crescita sia in peso sia in statura con modificazione degli outcome di salute questo ha poi anche delle caratteristiche diciamo di come possa essere misurato e diagnosticato che lo lo racconteremo poi dopo però è importante farlo perché spesso anche nel bambino con sviluppo diciamo con sviluppo tipico spesso il pediatra lo pesa soltanto e non sta a guardare le curve perché si affida alla propria esperienza al proprio giudizio in questo caso è fondamentale misurare pesare il bambino e plottare le sue misure antropometriche sulle curve di crescita quindi ricordiamo anche questo la visita pediatrica prevede anche dei controlli tipici in alcune fasce di età del bambino fino ai 12 anni forse si fa il controllo delle curve di crescita o anche in realtà le curve di crescita coinvolgono tutta l'età evolutiva fino ai 18 anni ok quindi è necessario che nella visita pediatrica vengano rispettati questi criteri di somministrazione di test di misurazioni si si dicevo che questo è un problema dicevamo però è anche fonte di soddisfazione per noi perché è stato fatto tantissimo siamo molto più sensibili siamo molto più attenti allo stato nutrizionale dei pazienti e questo è stato il motivo per cui l'aspettativa di vita di questi pazienti è aumentata nettamente noi abbiamo spesso transitato e continuiamo a farlo transitiamo i bambini che prendiamo in atto in carico dalla nascita alle cure dell'adulto con tutti i problemi che accompagnano la crescita di questi bambini per cui non soltanto diciamo questo è stato ottenuto ma questo ci rende appunto responsabili e consapevoli nel doverlo fare meglio perché solo in questo modo è possibile fornire un trattamento e una qualità di vita adeguata e di vantaggio perché altrimenti quando si arriva a dover pensare a delle cure nutrizionali solo quando non siamo più in grado di farlo e nessuno riesce più a farlo qui diventa veramente un po' finalistica la cosa sì no è interessante che tu abbia parlato di quest'ultimo aspetto nell'ambito delle problematiche relative all'alimentazione e bambini con problemi del neurosviluppo perché si pensa spesso che il tema della malnutrizione non sia un problema che riguarda i paesi sviluppati ma che sia un tema di altri ambienti lontani da noi quindi difficilmente si corrella questo invece con lo stato di salute dei nostri bambini poi bambini che lo dicevi anche tu hanno la giornata impegnata anche in altre terapie in altri trattamenti per cui questo stato di disagio magari generato da una malnutrizione un rapporto inadeguato fra il fabbisogno e gli apporti può generare delle difficoltà anche a portare avanti un adeguato piano riabilitativo su altri ambiti l'ambito ortopedico o del linguaggio certo perché poi a tutti i problemi che abbiamo citato si possono aggiungere altri uno di questi il reflusso gastroesofageo che anche questo è molto frequente in questi pazienti l'eziologia può essere come noi chiamiamo multifattoriale avere molte cause dalla posizione supina cronica al ritardato svuotamento gastrico perché lo stomaco svuota lentamente perché muove poco la stipsi appunto la dismotilità intestinale o le anomalie schelettriche che possono essere tutti i fattori che si influenzano fra di loro esatto e per questo diciamo sapendo che è un problema molto molto frequente siamo invitati da quest'ultima consensus dell'esca anche a iniziare il trattamento direttamente del reflusso al contrario di come invece si fa nel bambino non affetto da patologia neurologica anche senza aver fatto esami per diagnosticare il reflusso che ovviamente rappresentano il gold standard quindi se noi potessimo fare una pH impedenziometria o potessimo fare un'endoscopia sono degli esami abbastanza invasivi no? sono degli esami la pH impedenziometria necessita solo di un sondino che arriva fino all'esofago e misura tutto il pH che si trova in esofago e poi permette di ricostruire un pattern diciamo così una caratteristica perché il reflusso è anche fisiologico un po' di contenuto gastrico sale sempre in esofago ma non è una patologia se non ha delle caratteristiche cioè se non è troppo acido o se non è troppo alto ok il trattamento del reflusso è sostanzialmente con inibitori di pompa protonica bisogna però stare attenti mi sento di sottolineare che sono spiegaci sono dei farmaci che cosa sono? si chiamano così sono dei farmaci veri e propri farmaci quindi si prendono come polveri come pastic possono essere in forma diversa possono essere anche pastiglie orosolubili che quindi si sciolgono in acqua e possono essere prese anche con piccole quantità di acqua ma mi sento di sottolineare che è importante valutare l'efficacia ok perché se non abbiamo fatto un esame che ci diagnostica esattamente il reflusso iniziamo il trattamento e la sintomatologia non scompare probabilmente la causa del malessere del bambino non è il reflusso quindi questo ovviamente è importante farlo non dobbiamo andare avanti a trattare all'infinito senza mai sospendere quel bambino che non ha corretto niente rispetto a come stava prima quindi attenzione anche agli altri segnali clinici che ci dà il bambino senti prima di andare avanti tu hai citato più spesso l'ESGAN vuoi ricordare che cos'è questo è la società sì è la la società più prestigiosa europea la società di europea di gastroenterologia e patologia e nutrizione pediatrica ok quindi è una società scientifica scientifica tutte le società scientifiche che hanno questo questo compito che di tanto in tanto o alla base di evidenze quindi quando ci sono evidenze scientifiche su base di lavori di trial clinici evidenze molto forti si possono anche fare delle linee guida che sono costruite in modo proprio di raccomandazioni altrimenti quando le evidenze sono meno diciamo forti meno documentate allora si fa una consensus vuol dire che un certo numero di specialisti che la società scientifica individua e riconosce per la loro esperienza eccetera si esprimono in materia di argomenti sui quali non c'è certezza e non c'è comportamento univoco e questi sono le nostre guide perché altrimenti ognuno farebbe solo come sa e questo ormai non è più ammissibile quindi le fonti che ci hai citato sono quelle che poi hanno dato origine appunto agli atti delle consensus conference o alle linee guida e sono quelle che voi applicate poi nella vostra quotidianità sì io cito ho citato l'esplan perché ovviamente c'è un documento completo su tutte queste tematiche sul quale l'ho citato ma anche la SIGEMP la società italiana di gastroenterologia e nutrizione pediatrica nel 2019 ha prodotto una un testo un documento che è stato poi pubblicato sul giornale della SIGEMP proprio in merito a queste a queste tematiche che stiamo noi toccando oggi bene più chiaro sicuramente senti abbiamo parlato delle problematiche più frequenti parliamo del follow up che cosa si fa per prevenire poi questi stati per prevenire la malnutrizione che abbiamo capito essere poi il grande problema no? esatto esatto allora nel documento che citavo di SIGEMP che è stato pubblicato nel 2019 la prima raccomandazione è quella della valutazione multidisciplinare del paziente e di due scopi iniziali quello di valutare lo stato nutrizionale del bambino e quello di valutare la sicurezza dell'alimentazione queste due cose devono essere in parallelo condotte quindi non è sufficiente valutare la crescita bisogna anche valutare se l'alimentazione del bambino che abbiamo davanti è sicura oppure no proprio per i motivi che abbiamo detto prima come si fa la valutazione nutrizionale? attraverso le misurazioni le misure del corpo misuriamo il peso e misuriamo l'altezza o la lunghezza quando il bambino è piccolo fino ai due anni si parla di lunghezza e poi se si può mettere in piedi diventa altezza quella dell'altezza è tutt'altro che è semplice nel paziente con neurodisabilità perché ci sono degli elementi come la scogliosi come la spasticità come le contratture che non ci permettono di stendere bene tutto il corpo del bambino e misurarlo nella sua diciamo integrità allora c'è soluzione anche a questo esistono le misure segmentali le cosiddette misure segmentali vuol dire che noi misuriamo soltanto una parte del corpo che può essere misurata con sufficiente precisa azione quindi l'atto superiore esatto per esempio l'altezza del ginocchio l'altezza della tibia o dell'ulna della prima parte dell'avambraccio e attraverso apposite formule che sono state elaborate appositamente si può calcolare l'altezza di quel bambino per quanto riguarda il peso anche questo può rappresentare qualche problema finché il bambino è piccolo non c'è problema si prende e si mette sulla bilancia pesa bambino e non ci sono problemi quando poi il bambino è più grande bisogna fare la doppia pesata la doppia pesata è non sempre così agevole la doppia pesata vuol dire prima e dopo il pasto? no vuol dire prima la mamma o il papà con il bambino in braccio poi il papà o la mamma da soli e si fa per differenza il peso del bambino ok ok perché quando supera i 10 kg e non ci sta più sulla bilancia piccola bisogna fare la doppia pesata quindi non ci sono altri modi per pesare una persona che dal punto di vista motorio può avere degli impedimenti stavo per dire proprio quello in realtà sì esistono le bilance a pedana che noi per esempio usiamo regolarmente questa pedana permette di salire sulla sulla stessa con la carrozzina ok ok e quindi di fare la tara rispetto al peso della carrozzina noi facciamo una volta oppure ogni volta che si cambia questo dispositivo questa carrozzina pesiamo la carrozzina da sola ci segniamo questo peso e poi le volte successive che vediamo il bambino è sufficiente che questo vada sulla bilancia insieme alla sua carrozzina e noi abbiamo il peso preciso del bambino ovviamente bisogna attrezzarsi per averlo sono delle bilance ovviamente che occupano un po' di spazio però si può fare ed è necessario direi ci sono altre misurazioni che interessano voi medici dietologi come la circonferenza cranica o altre parte del corpo o solo peso altezza peso altezza e circonferenza cranica sono fondamentali soprattutto nei primi tre anni di vita anche la circonferenza cranica è una delle misure di crescita salvo poi avere delle particolari diciamo caratteristiche in caso di microcefalia o in caso di idrocefalo dove ovviamente non risponde ai parametri normali ai parametri normali un'altra cosa importante a proposito di misurazioni sono le misurazioni che ci permettono di rilevare la composizione corporea ovvero quello di sapere non soltanto quanto pesa il bambino ma quanto di questo peso in termini percentuali è fatto da massa magra quindi muscoli ossa eccetera e quanto è fatto da massa grassa e questo è anche molto importante da sapere perché provate a pensare come valutereste un semplice aumento di peso di un bambino specialmente se in corso di intervento nutrizionale se venite a sapere che è la massa grassa che è aumentata rispetto al controllo precedente allora questo ci permetterebbe rispetto alla semplice risoluzione del peso che ci renderebbe contenti di aver aumentato il peso se invece veniamo a sapere che è solo la massa grassa che è aumentata dobbiamo modulare l'apporto calorico perché sia funzionale dobbiamo agire anche con la riabilitazione e via dicendo e come si fa questa misurazione? stiamo guardando sempre più in profondità allora la misurazione si può fare con diversi metodi il metodo anche qui più diciamo preciso più tecnico è uno dei metodi è la bioinfedenziometria perché esiste anche la la DEXA la valutazione della composizione corporea attraverso una densitometria ok però questo è un po' poco applicabile perché bisognerebbe nel bambino piccolo attuare un po' di sedazione ma non è necessaria diciamo nella pratica clinica non è necessaria la bioinfedenziometria svolge molto bene questo questo è un esame complicato e non so assolutamente come avviene come? assolutamente no è un esame che rileva la composizione corporea attraverso la misurazione del passaggio di una corrente elettrica molto molto flebile meno di una pila di quelle che alimentano tipo un alimento non fastidiosa ecco no 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 assolutamente no si mette un piccolo cerottino un elettrodo che attraverso un cerotto si mette sulla mano un altro sul piede che passa attraverso questa macchina che misura e poi fa i calcoli quindi molto semplice di nessun impegno per il bambino ovviamente bisogna essere attrezzati non soltanto per avere lo strumento ma per saperlo poi interpretare invece in modo più semplice chi non fosse dotato di bioimpedenziometro o di tecnico da bioimpedenziometro potrebbe per esempio non dimenticarsi di misurare la circonferenza del braccio oppure la plica precipitale che è lo stesso strumento che si usa poi per la malnutrizione dei bambini nei paesi in sviluppo quindi esatto queste due misure la circonferenza del braccio e la plica precipitale misurano diciamo in maniera abbastanza precisa se si effettua sempre dallo stesso operatore e sempre nello stesso modo così come le indicazioni dicono e permettono di definire la circonferenza del braccio la massa magra la massa muscolare mentre la plica precipitale la massa grassa ok e questo attraverso anche delle formule è possibile ricavare la massa magra e la massa grassa del corpo no in generale ma al di là anche se non calcoliamo la massa magra e la massa grassa semplicemente monitorando lo stesso lo stesso parametro noi possiamo renderci conto nell'evoluzione nel tempo di questi di questi bambini c'è da dire che la composizione di crescita e la crescita in generale varia molto in base dicevamo alla severità della patologia neurologica ed è a questo che si riferisce il sistema di classificazione della patologia neurologica che si chiama gross motor function classification system quindi anche voi usate la scala gross motor anche per valutare le diverse classi e quindi in base alla misurazione dei parametri e alla classificazione gross motor voi andate a definire poi delle strategie quindi allora qui devo fare un altro spaccato una precisazione approfondimento le linee guida estran che dicevo raccomandano di riferirsi alle curve di crescita dei bambini normali anche per i bambini con la neurodisabilità nel senso che queste dovrebbero rappresentare l'obiettivo ok quindi anche se sono tutti sotto curva allora le curve specifiche per patologia quelle che citavi tu e che sono immagino tutti conosciate diversificate per classe di gross motor sì sono descrittive ma non rappresentano un obiettivo da raggiungere sono descrittive quindi io so che rispetto al parametro standard tipico dovrei essere lì e quindi mi regolo rispetto allo scostamento no allora noi dobbiamo sempre puntare le curve normali ok dobbiamo invece fare riferimento alle curve di crescita tipiche cioè alle curve di crescita per patologia quando per esempio valutiamo la necessità di nutrizione artificiale perché non possiamo valutare la necessità di nutrizione artificiale sulle curve di crescita normale perché altrimenti sarebbero tutti candidati alla nutrizione artificiale ma c'è un dato in più che sono le curve di crescita per patologia cosiddette cliniche sempre elaborate dal gruppo dell'università della california che ha individuato una un'area particolare posizionata in basso rispetto a queste curve di crescita tipiche che è detta area di criticità quindi gli autori suggeriscono sulla base del fatto che hanno misurato migliaia di bambini semplicemente di evitare di trovarsi in quest'ambito in questa zona critica me la immagino come una zona rossa un fascione rosso in cui se arrivo lì posizionato nella parte più bassa anche delle curve tipiche perché se ci si trova lì si rischia di avere più infezioni più ricoveri meno aspettativa di vita e tante altre diciamo effetti negativi ovviamente questi sono i pazienti malnutriti molto malnutriti ok quindi noi dobbiamo articolare il il nostro giudizio proprio in base al sapere tutto questo ed è per questo che è bene affidarsi a centri esperti che non sono molti però Antonella ci confermi in Italia se tu dovessi mappare così a grandi linee tu mi hai parlato di Torino dove sei tu abbiamo intervistato in passato anche la dottoressa Spagnolo quindi su Napoli possiamo dare altri riferimenti perché poi per le famiglie che notoriamente sono abbastanza mobili per cui si spostano facilmente però è importante sapere quali sono i centri valutati come centri di secondo terzo livello o comunque più esperti su questo tipo di valutazioni sì ce ne sono ce ne sono diversi ovviamente l'organizzazione varia da centro a centro varia da regione a regione quindi non tutti sono organizzati allo stesso modo però della buona nutrizione si fa al Meyer di Firenze al Gaslini di Genova al Bambin Gesù di Roma a Trieste al Burlo Garofo di Trieste esatto ci sono citate nomi che sono molto familiari nella vita di queste famiglie quindi in linea generale diciamo l'ospedale pediatrico è un ospedale già però ci possono anche essere centri di pediatria questi che io ho citato sono centri esperti in nutrizione artificiale in generale anche in altri ambiti ci possono ovviamente essere anche altri centri specificamente dedicati magari a bambini con neurodisabilità la Bologna Reggio Emilia ne conosco diversi quindi non è così difficile raggiungere dei bravi ecco bisogna proprio informarsi su come operano cosa fanno gli specialisti e chi c'è che ci lavora e quando tu prima citavi l'Espgan e la SIGEM esistono sui siti di queste società scientifiche anche delle mappature di questi centri cioè magari scritto perché questo potrebbe essere qualcosa di utile per le famiglie sapere che magari il più vicino casa te lo diamo come obiettivo vai in missione per noi non è semplice perché bisogna per fare un elenco o una classifica bisogna avere dei criteri certo che ancora non abbiamo però anche solo sapere c'è quel professionista quindi quel titolo di studio cioè la bilancia pedana che mi dicevi tu anche l'attrezzatura l'insieme di questi fattori rende già la vita della famiglia più comoda diciamo certo certo spesso si parla di supplementi nutrizionali orali quando è opportuno integrare la dieta con questo tipo di supplementi quali sono i benefici quali sono le caratteristiche allora i supplementi nutrizionali orali che noi comunemente chiamiamo integratori anche un po' impropriamente diciamo perché di fatto i supplementi nutrizionali orali sono alimenti a fini medici speciali quindi hanno una composizione definita e sono preziosissimi in terapia nutrizionale di supporto in ambito pediatrico fatto che siano degli alimenti a fini medici speciali vuol dire che si possono vendere si possono comprare lato consumatore in farmacia senza ricetta senza prescrizione rientrano in quella categoria lì sì si possono acquistare si dovrebbe fornirli a mio parere al paziente malnutrito da parte del servizio sanitario nazionale ma non sempre ed essere garantiti diciamo anche dai livelli essenziali di assistenza non è sempre così perché appunto dobbiamo ancora lavorare in questo senso perché si capisca il ruolo di questo strumento utile che appunto l'ESGAM per citare un ente autorevole lo definisce come nutrizione enterale per OS perché è sempre una nutrizione artificiale semplicemente somministrata per bocca esatto gli integratori possono essere di due tipi possono essere completi quindi contengono tutti i macro e micronutrienti elementi traccia minerali vitamine tutto e questi sono indicati anche ad essere utilizzati come sostitutivi del pasto perché contengono tutto il pregio principale di questo tipo di integratori è quello di in un volume piccolo offrire un apporto calorico elevato per esempio in 200 ml o 125 ml per le forme compatte forniscono 300 calorie che è qualcosa di approssimabile ad un pasto esistono poi gli integratori modulari che forniscono uno o due nutrienti soltanto e questi possono essere aggiunti agli alimenti per aumentare l'apporto calorico oppure l'apporto di quei singoli nutrienti di cui dicevamo quando usare gli integratori quando usare i supplementi orali quando i bambini o i pazienti in generale perché non parliamo solo di bambini piccoli non riescono a coprire per intero il loro fabbisogno calorico oppure si affaticano in fretta e non riescono a finire il pasto oppure non riescono a tollerare volumi elevati e quindi devo contenere i volumi da dare oppure sono semplicemente inappetenti e quindi può essere anche utilizzato proprio come forma di terapia nel caso dei demodulari dicevi vado a reintegrare solo un singolo elemento questo vuol dire che prima devo fare delle analisi devo capire qual è l'elemento che manca o questo lo deve fare lo specialista sono sempre dei presidi che devono essere gestiti dallo specialista che va a completare quello che è l'analisi della dieta di quel bambino e su questa base confrontandolo con i fabbisogni sapendo cosa manca vado ad aggiungere una cosa piuttosto che un'altra faccio per dire una maltodestrina ovvero carboidrato un grasso o lipidi come li chiamiamo oppure degli amminoacidi che sono la base delle proteine però bisogna farlo con criterio e non pur di integrare consigliare qualunque cosa c'è da dire una particolarità che gli integratori per l'età pediatrica sono specificamente formulati e esistono abbiamo una buona gamma di integratori pediatrici di questi siamo molto grazie all'industria perché non è adesso specifichiamolo Antonella perché vedo ancora oggi dei genitori che prendono tu hai parlato di amminoacidi prendono formule di amminoacidi per adulti sportivi e li somministrano ai bambini questa cosa è scorretta esiste il corrispondente pediatrico per cui non c'è ragione di fare questo esatto dicevo non è molto lontano il tempo in cui noi non avevamo così tanta scelta in ambito pediatrico invece adesso ce l'abbiamo ed è importante usare le formulazioni pediatriche perché i fabbisogni del bambino sono fondamentalmente diversi da quelli dell'adulto e quindi non è giustificato l'utilizzo indiscriminato di integratori dell'adulto nel bambino noi ogni tanto lo facciamo per esempio negli adolescenti che hanno un peso che si può si avvicina di più a quello dell'adulto e io per quel ambito specifico posso agire anche con un integratore dell'adulto ma non indiscriminatamente per l'area pediatrica per i bambini piccoli e anche per quei bambini che pur essendo grandi di età pesano poco non possiamo usare gli integratori dell'adulto e questo è l'arte che noi facciamo è questo che noi facciamo quindi nel vostro caso specifichiamo anche questo nel vostro caso l'età conta come parametro però conta più il peso e l'altezza anche per identificare il tipo ok contano entrambi sì beh in essenti abbiamo parlato di integratori andiamo a toccare un altro tema che è molto vicino che è quello del potenziamento cognitivo quindi spesso i genitori soprattutto su bambini che hanno avuto lesioni al cervello alla nascita hanno grandissime preoccupazioni a ragion veduta di quello che può essere lo sviluppo cognitivo di questi bambini e quindi spesso si crede che ci siano degli alimenti in grado di potenziare o di aiutare questo tipo di sviluppo e quindi si fa spesso riferimento agli acidi grassi essenziali agli amminoacidi abbiamo detto prima gli omega 3 ci fai tu un po' una panoramica su ciò che è vero ciò che hai sentito dire che lo possiamo leggere sulla rivista dal parrucchiere ma in realtà non è avvalorato da grandi studi scientifici allora in realtà parlando di micronutrienti perché di quello si tratta io posso fare in realtà un elenco lungo di quelli che diversi studi hanno identificato come carenti nei bambini con neurodisabilità e questi sono dagli acidi grassi essenziali che citavi tu quindi gli omega 3 per esempio gli omega 6 ma anche il ferro anche lo zinco il selenio la vitamina C la vitamina D la vitamina E il fosforo il calcio e come mai mancano tutti questi micronutrienti a questi bambini ecco mancano perché l'alimentazione di questi bambini non è spesso sufficiente ok o forse non è variata anche rispetto all'età cioè non è sufficiente in termini qualitativi e quantitativi non solo quantitativi e per convincerti ancora di più di quello che sto dicendo queste carenze sono molto meno frequenti nei pazienti che invece assumono nutrizione enterale e miscele enterali perché in quel caso io riesco a dare completamente fornite di tutto il fabbisogno anzi forse più complete rispetto a un piano alimentare di una persona però facciamo un passaggio successivo quanto la carenza di ferro quanto la carenza di alcune vitamine allora influiscono sullo sviluppo cognitivo quindi era era questo più il sì per concludere quello che che stavo dicendo prima in merito a tutti gli oligoelementi la raccomandazione è che almeno una volta all'anno questi vanno dosati per sapere che cosa devo integrare perché come si dosano si dosano su sangue esame del sangue esame del sangue esame del sangue dove lo sai sì che nessun pediatra ci prescrive il dosaggio di tutte le vitamine c'è scritto nella consensus che una volta all'anno il dosaggio dei micronutrienti deve essere fatto proprio perché è stato dimostrato dagli studi che possono spesso essere carenti una volta all'anno non ogni mese perché non è necessario però sulla base di questo si possono poi attuare protocolli di supplementazione adeguati ok adesso torniamo allo sviluppo cognitivo e agli acidi grassi allora qui c'è ovviamente una una base di verità gli acidi grassi in generale i poli insaturi i cosiddetti PUFA di cui gli omega 3 sono una sottospecie sono effettivamente molto importanti nel sviluppo in generale non soltanto nello sviluppo del 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 tessuto nervoso ma anche le membrane cellulari perché ne garantiscono la stabilità fanno parte delle membrane cellulari ne garantiscono la stabilità hanno effetti anti-infiammatori interferiscono con la salute della retina sono veramente molto molto utili e non per niente vengono chiamati essenziali perché ci devono essere e il motivo per cui si chiamano essenziali anche un altro e che l'organismo non li può sintetizzare ok perché non può inserire il doppio legame che è contenuto nella catena di questi acidi grassi e quindi li dobbiamo per forza assumere con la dieta ora bisogna fare delle precisazioni quello che tu mi stai chiedendo ovvero quanto ne devo prendere come lo devo prendere purtroppo non è non è noto noi possiamo partire da un dato semplice che è quello che ci dicono i LARN che sono i livelli di assunzione raccomandata dei nutrienti per la popolazione italiana che dicono e questi esistono anche per le diverse fasce di popolazione pediatrica e l'ARN certo non patologico non specifico però ovviamente per la popolazione per la popolazione e in questo caso noi sappiamo che dobbiamo assumere circa 250 milligrammi di acido di EPA e di DHA che sono le sigle per due molecole metabolicamente attive della serie omega 3 che nel bambino fino ai due anni bisogna aggiungere altri 100 milligrammi di DHA ok acido decaesainoico perché sono appunto fondamentali per la maturazione delle strutture nervose ma nel bambino piccolo sono anche importanti altri altri acidi grassi che sono quelli della serie omega 6 e questo è un discorso molto delicato nel senso che qui siamo nell'ambito della farmaconutrizione perché quando parliamo di un effetto farmacologico di una sostanza che invece è un nutriente allora parliamo di farmaconutrizione quindi bisogna usare gli stessi criteri che si usano per i farmaci e non si possono prendere a buon senso ma bisogna prenderli con criterio quali sono le cose che io posso diciamo sottolineare e mettervi in guardia primo tra tutti quello che non sappiamo definire è se dobbiamo somministrare o supplementare queste formule queste molecole metabolicamente attive come l'EPA e il DHA oppure i loro precursori perché i precursori hanno la capacità di essere poi processati dall'organismo per creare le molecole metabolicamente attive all'occorrenza dell'organismo e l'acido linoleico quello della serie omega 3 e l'acido linoleico per la serie omega 6 ok allora se invece io somministro già la molecola attiva obbligo in qualche modo l'organismo a gestire questa molecola metabolicamente attiva che se è diciamo così ben piazzata fa il suo ruolo quello che però potrebbe succedere di non buono è che prima si altera l'equilibrio tra omega 3 e omega 6 se io somministro omega 3 in modo massiccio senza sapere che cosa succede con gli omega 6 allora questa parte rimarrà penalizzata e nel bambino molto piccolo la presenza di omega 6 i livelli corretti di omega 6 sono correlati con la crescita e con lo sviluppo ok non sono solo gli omega 3 ad essere importanti l'altra cosa è che sono queste molecole pur molto utili molto ossidabili quindi se io non ho sufficienti livelli di antiossidanti ovvero vitamina A vitamina E vitamina C selenio rame zinco che sono tutti coenzimi della catena antiossidativa vuol dire che posso creare dei radicali liberi dell'ossigeno ossidando questi stessi acidi grassi che sono molto fragili molto ossidabili e poi creare dei danni tessutali quindi pur riconoscendo che hanno un ruolo pur riconoscendo che in quei casi in cui sappiamo che l'alimentazione è particolarmente carente possiamo fare o per dei periodi di stress particolare possiamo ben fare delle supplementazioni non possiamo dire di assumere indiscriminatamente per sempre una supplementazione con x milligrammi di omega 3 perché questo non si deve fare chiarissimo Antenella nel senso che sei stata molto chiara nella spiegazione ci hai gettato nel dubbio e nell'ansia invece di chi però non ha un'altra soluzione nel senso che poi mancando altre informazioni poi ecco si fatica se uno diciamo ha modo di ragionare sulle cose e ha chiarezza poi può fare anche delle scelte corrette questo è la base per contro posso dire che invece è fondamentale assumere della vitamina D da 800 a 1000 unità al giorno almeno nei mesi invernali sempre quindi questa è raccomandata a prescindere dal e non lo facciamo raramente viene fatta nonostante sia raccomandata e sia di indubbia utilità sia per la salute dell'osso sia per gli effetti antinfiammatori gli effetti sulla crescita perché noi sappiamo che la vitamina D rappresenta un vero e proprio ormone più che una vitamina ok quindi gestiamo gestiamo bene con criterio tutto quello che sappiamo sì ecco forse mi viene da dire gestiamolo con insieme ad un professionista che ci aiuti su questo perché abbiamo capito quanto è importante la misurazione il capire qual è il livello qual è lo stato attuale su cui intervenire perché altrimenti non sono così innocui e forse queste supplementazioni possono dare origine a degli squilibri che non vogliamo che non ricerchiamo esattamente quindi se sappiamo di avere delle particolari carenze queste vanno corrette il di più non è sempre meglio ok chiaro questo volevo dire senti abbiamo parlato tanto di questo tema quindi io non mi soffermerei su altri aspetti ma andrei direttamente a meno che appunto tu non voglia integrare con qualcosa sull'alimentazione in no avevi citato gli aminoacidi in precedenza se vuoi dico anche che non mi sento di fare una raccomandazione su integrare la dieta dei bambini con patologie neurologiche con degli aminoacidi perché perché nella stragrande maggioranza dei casi la dieta di questi bambini è molto ricca di proteine ok cosa gli diamo fondamentalmente gli diamo i secondi gli diamo i formaggi gli diamo il latte gli diamo la carne gli diamo gli affettati gli diamo lo yogurt no ecco diamo molto meno la pasta il riso il pane molto meno perché riusciamo a darli a darli meno quindi dare un sovraccarico di proteine non serve a niente anzi è un impegno per l'organismo perché la fonte azotata è tossica per l'organismo e va gestita va gestita con delle calorie che utilizza per fare fuori per eliminare la fonte azotata ok quindi quando le proteine sono molto abbondanti nella dieta noi spendiamo parte delle calorie o che mangiamo o che abbiamo di deposito per gestire questa fonte azotata che è un po' il principio delle diete iperproteiche per dimagrire però ecco in questi bambini eviterei questo sovraccarico questa spesa energetica per ecco eviterei come un consiglio che va bene a tutti certo se uno ha una carenza proteica perché per vari motivi non riesce ad assumerli e questo è documentato da un'anamnesi alimentare che ha fatto la dietista eccetera allora certo sì ma non in modo indiscriminato poi se vogliamo dire quello che vale un po' anche per lo sportivo per esempio l'utilizzo degli aminoacidi ramificati per dire eccetera anche questo può essere fatto per periodi molto ristretti a cosa servono questi aminoacidi ramificati i ramificati hanno un tropismo muscolare cioè hanno una preferenza per il muscolo no quindi fanno sviluppare i muscoli fanno sviluppare i muscoli diciamo così però devono essere in misura diciamo molto ben dosata sartoriale rispetto agli aminoacidi totali possono essere utilizzati solo per periodi limitati nello sportivo sono consigliati per migliorare le performance quindi performance e poi basta non costantemente e devono essere associati ad un allenamento nello sportivo nel nostro caso con magari la riabilitazione eccetera quindi devono essere anche qui siamo nell'ambito della farmaco nutrizione devono essere consigliati nell'ambito nel contesto globale del paziente cioè di tutto quello che fa di tutto quello che mangia e di tutto quello che è la sua terapia e ci hai detto anche un'altra informazione che questo tipo di supplementazione è piuttosto può procedere a cicli ma non è continuativa non è perché magari il bambino non mi mangia la frutta e la verdura allora io tutto l'anno gli do vitamine quindi l'altro messaggio è anche questo di curare in funzione dell'esigenza limitata a quel periodo a quel momento esatto lo dico per ultimo perché poteva sembrare molto diciamo semplificativo quello di dire che il migliore modello di alimentazione è l'alimentazione varia l'alimentazione è la dieta mediterranea l'alimentazione in cui si mangia un po' di tutto proprio perché nessuno è più bravo della natura a fare l'equilibrio a fare l'omeostasi quello che è il meglio della nutrizione o dell'alimentazione noi ci proviamo però imitiamo sempre la natura quindi se uno riesce a mangiare di tutto nella misura in cui riesce a farlo però ovviamente almeno tenerlo a mente questo è sicuramente il migliore ti devo fare un'ultima domanda prima di avviarci ai temi della disfagia e in generale della nutrizione interale ti sono capitati già forse negli ultimi periodi anche bambini da famiglie che hanno deciso di procedere per un'alimentazione vegetariana o vegana e in questo caso appunto quali sono le raccomandazioni su disabilità neurologica supplementazione alimentare malnutrizione se c'è giusto qualche nota che puoi dirci ma allora sono due capitoli un po' diversi ovvero la dieta vegetariana almeno con la cosiddetta lacto ovo quindi con assunzione eliminazione della carne ma con assunzione di latte e uova e questo è diciamo abbastanza facilmente gestibile bisogna integrare la vitamina B12 bisogna integrare un po' di ferro però si può fare il resto direi è molto difficile da gestire anche nel bambino normale nel bambino sano non affetto da patologia nel bambino neurodisabile diventa veramente veramente complicato perché utilizzare i legumi per fornire la fonte proteica vuol dire avere tantissime fibre vuol dire avere volumi molto elevati perché le proteine vegetali hanno una valenza inferiore un valore biologico noi diciamo inferiore rispetto a quelle animali quindi bisogna mangiare molto di più un 30% in più e noi qui siamo nell'ambito in cui non riusciamo a solitamente a soddisfare i fabbisogni anche contenuti per cui ci sono capitate queste casistiche o non è frequente sinceramente non è così frequente no senti andiamo verso il tema che avevamo accennato all'inizio che è un tema molto comune che è quello appunto della disfaggire la difficoltà a deglutire liquidi o alimenti più o meno solidi vogliamo approfondire quindi come arrivare a una diagnosi disfaggia quali sono le indicazioni rispetto a quello che avevamo anticipato all'inizio sì la la diagnosi disfaggia bisogna diciamo stare molto attenti bisogna sospettarla sempre bisogna cercarla più che vederla comparire e bisogna anticipare i sintomi perché ci sono dei segni indiretti della disfaggia che per esempio una logopedista è in grado assolutamente di cogliere quando questi esami semplici quindi un esame obiettivo appoggiando per esempio il polendoscopio vicino al collo del bambino e sentendo i rumori che fa mentre deglutisce non sono sufficienti a definire lo stato delle cose allora si può ricorrere all'analisi all'esame con le fibre ottiche oppure la video fluorografia che sono che attraverso l'assunzione di un pochino di mezzo di contrasto ci fa capire dove va a finire il volo alimentare è un esame che si fa in sedazione o col bambino no perché il bambino deve deglutire deglutire quindi deve essere sveglio vigile è fastidioso no no se non c'è diciamo un rischio elevatissimo di inalazione quindi è un esame che deve essere non deve essere fatto almeno nella nostra regione e su indicazione della logopedista ok quindi la logopedista prima valuta fa l'esame obiettivo analizza tutti i segni diretti e indiretti e poi se proprio ha un dubbio consiglia questa cosa qua questo perché ovviamente alla diagnosi di disfagia segue poi un trattamento quindi bisogna fare una diagnosi attenta ecco nel momento nel momento in cui si fa diagnosi cioè si afferma sia attraverso la visa logopedistica sia attraverso un esame strumentale che il processo di deglutizione distruzione eccetera tutta la funzione orale è patologica allora ovviamente qui bisogna proteggere le vie aeree e bisogna prendere altre strade perché perché questo l'abbiamo accennato anche all'inizio il vero problema grande di cui abbiamo parlato è la malnutrizione però c'è anche questo rischio di inalazione che è qualcosa che appunto ci preoccupa come possiamo gestire questo in casa quindi quali accorgimenti può avere la mamma nel accorgerci nei momenti delle prime fasi della diagnosi della disfagia e evitare questa questa inalazione ma ci sono una serie di consigli che le logopediste forniscono regolarmente primo tra tutti la postura bisogna essere posizionati correttamente non bisogna avere il capo troppo flesso indietro non bisogna essere semi sdraiati tenere il bambino così e far cadere semplicemente l'alimento in bocca insomma ci sono diverse accorgimenti diversi accorgimenti bisogna stare molto attenti e a questo serve la valutazione insieme alla logopedista quindi se non è poi insieme non vuol dire contemporanea vuol dire che anche la logopedista deve valutare alcune volte all'anno un bambino che è affetto da neurodisabilità perché lei è in grado di cogliere anche segni precoci e segni che un occhio non esperto non coglie e questo succede soprattutto quando l'inalazione è silente perché passano piccolissime quantità che non danno segni e sintomi o perché il bambino è particolarmente diciamo malato e quindi è molto debole quindi non riesce a fare la tosse non riesce a reagire come dovrebbe oppure se le quantità sono molto piccole e quindi non producono un sintomo tale per cui generino preoccupazione nella mamma cosa succede comunque a queste quantità seppur piccole nel posto sbagliato succede che vanno regolarmente esatto vanno regolarmente nelle vie aeree dove poi creano vanno dove non devono stare quindi creano poi infiammazione infezioni o polmoniti esatto nei casi più massicci e più gravi si chiama polmonite vuol dire che c'è un'area più o meno grossa del polmone che non funziona perché è intasata da liquido i polmoni devono contenere l'aria non i liquidi e se c'è il liquido quella parte di polmone non respira non funziona si arriva però ad un certo momento per cui si decide ovviamente insieme allo specialista di procedere o comunque di raccomandare al paziente la nutrizione interale ci racconti tu com'è questo processo quali sono appunto le le indicazioni diciamo quello che fa scattare questa soglia per cui diventa l'unico intervento possibile sì ovviamente come dicevamo il primo movens è appunto il fatto che di avere la consapevolezza che la nutrizione non è più sicura quindi alimentarsi per bocca non è più sicuro che cos'è la nutrizione artificiale la nutrizione artificiale è una tecnica la nutrizione enterale scusate è una tecnica di nutrizione artificiale che ha indicazione quando quindi questi due termini non si equivalgono enterale e artificiale no la nutrizione enterale è una forma di nutrizione artificiale e significa che la nutrizione in questo caso artificiale viene somministrata nel tratto gastroenterico da qui da qui il termine enterale ed è per questo che rappresenta la più fisiologica delle forme di nutrizione artificiale o di terapia nutrizionale se vogliamo dire così perché di fatto è una terapia dicevo le indicazioni della nutrizione enterale sono appunto o la nutrizione orale controindicata perché non è più sicura o non è sufficiente a coprire il fabbisogno ok oppure non è impossibile non è possibile attuarla quindi in tutte e tre questi casi che vanno tutti valutati allo stesso modo e in questo caso voglio sottolineare l'alimentazione insufficiente perché ovviamente quando l'alimentazione orale è controindicata c'è poco da discutere no non puoi mangiare per bocca allora si deve trovare una soluzione in un altro modo la cosa più difficile è invece valutare quando la nutrizione enterale serve se l'alimentazione orale è insufficiente insufficiente quando insufficiente quanto quanto poco devo mangiare perché la nutrizione enterale sia adeguata 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 sia indicata e quindi io mi devo apprezzare per poterla fare e questo è un argomento molto diciamo specialistico che va affrontato con persone che ne hanno le capacità persone in centri che hanno tutte le specialità dove c'è un endoscopista bravo dove c'è la logopedista brava dove c'è un radiologo bravo dove c'è il dietologo il nutrizionista il dietista bravo perché è un momento molto delicato perché la raccomandazione di iniziare la nutrizione artificiale soprattutto se è una diciamo non è una cosa transitoria per una complicanza del momento significa che io devo avere un accesso enterale solitamente l'accesso enterale può essere o il sondino nasogastrico oppure la sonda gastrostomica che può essere la PEG l'abbreviazione della PEG vuol dire una gastrostomia posizionata per via endoscopica oppure una gastrostomia chirurgica ecco questo di fatto è un momento molto delicato perché perché viene percepito dalle famiglie come un fallimento della capacità di nutrire il proprio figlio adeguatamente sufficientemente oppure un peggioramento della storia clinica di quel bambino ok in realtà si tratta non bisogna cedere diciamo a questa sensazione che è lecito avere ma bisogna cercare di pensare questo come un aiuto come un atto terapeutico che offriamo al bambino così come si usano diversi altri presidi che cercano di aiutare il bambino anche questo rappresenta un aiuto anche perché è vero che è una decisione molto sofferta nei genitori l'abbiamo visto anche nei racconti di una di una mamma ma è anche vero che poi i racconti di questi stessi genitori in una fase successiva rispetto all'intervento sono racconti di grande soddisfazione non tanto per la gestione familiare che insomma diventa comunque più serene e tutto ma per questi bambini che si vedono rifiorire cioè che recuperano quell'equilibrio che invece prima pativano esattamente dicevo proprio questo cioè dobbiamo cercare di far prevalere tra i sentimenti che è normale umano avere quello di volerlo aiutare questo bambino e aiutarsi a migliorare la qualità di vita la decisione su questo spetta ai genitori quindi sempre in caso di minori la decisione la decisione ovviamente è una come possiamo dire è un atto che sottostà al consenso informato quindi il genitore adeguatamente informato da uno professionista che è in grado di spiegare tutto deve ovviamente esprimere il proprio consenso altrimenti è un po' difficile infatti mi metto anche nei vostri panni perché magari siete in grado di vedere delle situazioni che mettono a rischio anche la vita del bambino in quel caso voi potete intervenire come specialisti o comunque rimane sotto la responsabilità del caregiver ma questo poi è un aspetto diciamo etico che non è semplice affrontare in una chiacchierata di questo tipo io penso che invece tornando diciamo a questioni un po' più da vita quotidiana perché quello che citavi è un caso per fortuna raro io penso che spesso la decisione di posizionare la PEG o di iniziare la nutrizione interale anche attraverso un sondino viene rifiutata proprio perché non c'è sufficiente informazione questo dico è opportuno per me parlarne parlare di tutti gli aspetti perché ci si mette poi di fronte anche a una relazione di più fiducia con con l'operatore esatto io direi che ormai sono più di vent'anni che lavoro in questo campo e sono sono convinta che la percezione negativa che si ha è un rettaggio del passato quando diciamo la PEG si posizionava quando non si sapeva più cosa fare e questo era veramente un gesto come dire ultimo però non è più così noi adesso sappiamo tante cose anche solo chi ha seguito questa intervista può dire di sapere che la malnutrizione è deleteria e noi questo non lo possiamo dimenticare così come sappiamo quando un bambino ha un'infezione grave non speriamo che se la cavi con le proprie forze ma gli somministriamo un antibiotico sia pure per via endovenosa sia pure voglio dire se questo richiede una qualche un qualche intervento no ed è la stessa cosa se io non riesco a nutrirmi non ho le forze di combattere non ho le forze di fare riabilitazione e sarò sempre più debole allora è inutile che si arrivi all'ultimo momento in cui da come dicono gli studi hanno documentato e testimoniato i risultati poi della nutrizione interale o del posizionamento della PEG sono veramente incerti perché non è sbagliato il momento anche perché Antonella è un tipo di intervento che ormai facciamo da tantissimi anni no? abbiamo accumulato molta storia rispetto alla vita di questi pazienti alle loro condizioni quindi sappiamo quando è meglio intervenire se in una fase di precoce o nella grande maggioranza dei casi si posiziona la PEG per via endoscopica ok? Ed è una delle tecniche più collaudate al mondo è vero che è un intervento perché è un piccolo intervento e quindi non è privo di rischi e questi vanno spiegati bene ma noi abbiamo non soltanto i dati della letteratura ma i dati del nostro registro italiano della SIGEM di nutrizione artificiale domiciliare che ci dice che le complicanze della nutrizione interale del posizionamento della PEG sono veramente poche sono inferiori quelle maggiori sono inferiori al 5% e tra questi la maggior parte adesso non voglio dare troppi tecnicismi ma la maggior parte più del 3,5% sono dovuti alla cattiva gestione non al posizionamento quindi se noi diventiamo bravi a dare l'indicazione bravi a gestire la nutrizione interale avremo sempre meno di queste complicanze e dico ancora una cosa che la PEG non è il posizionamento della PEG l'inizio della nutrizione interale non è mai un gesto come dire ultimo un gesto disperato è un atto terapeutico che va gestito e va prescritto dal medico che noi posizioniamo anche in altri pazienti non soltanto in pazienti neurodisabili in pazienti che addirittura non sono disfagici come per esempio bambini affetti da fibrosi cistica che hanno un fabbisogno molto maggiore rispetto ai coetanei non affetti da patologia e che quindi non ce la fanno ricordiamo anche Antonella che è un intervento reversibile per cui stiamo parlando di qualcosa da cui non si può tornare indietro nel caso qualcuno poi acquisisca quelle competenze o cambi lo stato di salute esatto l'ultima cosa che volevo dire per convincerli tra virgolette è che se si inizia precocemente la peg si può anche rimuovere e il bambino si può svezzare e tornare a mangiare per bocca quando dici precocemente c'è un riferimento anche all'età proprio anagrafica voi avete storia di bambini in cui avete iniziato a non so un'altra non c'è non c'è limite non c'è limite all'età il limite inferiore non no non c'è nel limite inferiore nel limite di peso questo è stabilito anche dall'ultimo dalle ultime linee guida proprio sulla gastrostomia endoscopica percutanea la ped ovviamente dipende questa è una decisione è una decisione sartoriale sul paziente non è un'indicazione che può essere data per tutti non che tutti devono avere entro l'anno la pega assolutamente no però sapere che comunque esistono delle procedure per applicarla anche nei dati esatto sì però ovviamente deve essere un'indicazione soppesata e fatta e fatta bene senti io parlerei un po' adesso dei tipi di somministrazione della nutrizione interale ci racconti qualcosa su questo e sui benefici poi anche sì si può spaziare in un numero abbastanza ampio di tipologie di infusione esiste la possibilità di infondere in modo intermittente quindi a pasti tipicamente così fanno i bambini molto piccoli così come si sono i pasti diciamo le copate il latte materno ecco possono mimare questa tipologia qua si può fare invece per favorire soprattutto quando c'è un'alimentazione orale conservata e si ha il desiderio di mantenerlo si può fare una nutrizione interale notturna o con qualche bolo diurno oppure anche senza di giorno si mangia gli alimenti normali naturali quindi si può mantenere l'alimentazione mista in questa certamente e quando invece soprattutto quando abbiamo bisogno di una riabilitazione buona della funzione orale e di riprendere l'alimentazione per bocca facciamo molto meglio se abbiamo una peg rispetto al sondino per ovvi motivi direi nel momento in cui la peg si dovesse rimuovere è sufficiente sfilarla e la cute si chiude da sempre tanto è vero che noi diciamo ai pazienti quando li mandiamo a casa con la peg e con la nutrizione interale diciamo attenzione se il palloncino si sgonfia o se la sonda si sfila cerchiamo di riposizionarlo oppure correte subito in pronto soccorso o al servizio di dietologia perché venga sostituito perché può chiudersi velocemente quindi direi che dobbiamo essere intelligenti nell'usare questa modalità di terapia nutrizionale non ci sono diciamo vincoli che non possono essere superati né nella modalità di infusione né nel contesto o luogo si può infondere in casa si può infondere fuori casa si può fare di notte di giorno prima dei pasti dopo i pasti con la siringa con la pompa tutto come si vuole ci sono veramente tante possibilità e di questo davvero dobbiamo essere grati anche all'industria che ci corre dietro con ogni tipo di proposta così come gli zainetti che contengono le pompe ci permettono di fare l'alimentazione anche fuori casa o le siringhe insomma i modi sono tanti bisogna solo comunicare bene le proprie esigenze al medico che ci segue e costruire insieme a lui qualche cosa che vada bene e si adatti bene alla vita del bambino e della famiglia questi sono bambini che spesso prendono anche terapie farmacologiche vanno somministrate anche queste terapie attraverso la sonda o sono accorgimenti particolari o allora se la possibilità c'è anzi qualche volta si utilizza proprio la PEG o per dare l'acqua per esempio quando non riusciamo a dare tutta l'acqua che si vuole mentre gli alimenti riusciamo a mangiarli oppure per somministrare gli alimenti per esempio si ripristina l'alimentazione orale e mi alimento ma i farmaci non riesco a darli al bambino e allora li somministro per la PEG e quindi anche se non mi serve più non la tolgo perché utilizzo gli alimenti scusate utilizzo i farmaci con facilità senza che debba diciamo il bambino fare lo sforzo di deglutirli o accettare il sapore non gradevole ci sono degli accorgimenti di somministrazione dei farmaci e degli alimenti ma questo è da declinare in funzione del singolo farmaco ed è il medico che prescrive il farmaco che deve dire lontano dal pasto insieme al pasto oppure come come deve essere un tema che vedo emerge spesso nei focus gruppo quelli che erano i focus gruppo e che adesso sono diventate le community social è l'alimentazione naturale somministrata per sonda quindi la possibilità di preparare qualcosa a casa e di integrarlo rispetto agli alimenti che invece ci vengono forniti per la nutrizione interale non so io ci vedo dietro una voglia anche questa mi sembra assolutamente lecita a parte del genitore di recuperare poi quel valore che è nel genitore che alimenta il proprio figlio nel trasmettere anche i sapori quindi questa voglia di far provare qualcosa e di mantenere anche se vuoi la socialità nel momento del pasto in famiglia quindi dici tu cosa è giusto fare cosa non è giusto fare dal punto di vista invece scientifico allora questo è un altro argomento molto delicato dove come dici l'opinione pubblica ma anche quella scientifica è diventata molto più interessata i primi e prolifica i secondi per produrre tutte le risposte che vengono che vengono chieste io dico per non essere tra virgolette vittime delle mode alimentari di cui ormai ne sappiamo qualcosa bisogna conoscere molto bene la materia ok ricordo che somministrare alimenti frullati nelle sonde è stata la primissima modalità nutrizione interale è nata così somministrando del latte attraverso la la sonda e noi sappiamo benissimo quale vantaggio invece sono state le miscele interali quelle formulate quelle classicamente intese diciamo così io lo ricordo quante poche miscele interali avevamo quando io ho iniziato a lavorare tipo c'erano tre varietà due varietà quindi dolce salato cioè la scelta era solo neutro niente niente scelta invece adesso abbiamo molta scelta molta scelta non soltanto in termini di ipercalorica ipocalorica ma possiamo scegliere il tipo di proteina che vogliamo il tipo di miscela che vogliamo per quella patologia formulata appositamente addirittura solo aminoacidi singoli per il bambino allergico per il bambino intollerante per quello che ha mille esigenze e quindi questo è veramente un diciamo una ricchezza per cui se non siamo diciamo più nell'epoca in cui è stata inventata la nutrizione interale la somministrazione di alimenti naturali per sonda dovrebbe sottostare alle stesse regole e criteri ai quali stanno le miscele interali quindi quanti benefici quali outcome riescono a soddisfare e perché li devo usare perché se io diciamo vado con delle convinzioni e faccio un atto di fede non un atto di scientifico allora questo non è qualche cosa che ha un denominatore comune con quello che stiamo dicendo questa sera ok con ciò non voglio diciamo minimizzare perché il ruolo tutto questo questo fermento è nato non senza motivo le miscele interali da un lato non sono poi artificiali sono formule a base di latte latte vaccino arricchite con tutti come abbiamo detto macro e micronutrienti proprio per formulare i fabbisogni del bambino quindi non è che hanno e specifichiamo anche che nel caso del paziente dei pazienti di cui parliamo noi vengono date gratuitamente quindi la famiglia non paga nulla per questo tipo di alimento e questo è un altro elemento che lascerei anche per ultimo perché quando si vuole diciamo il bene del proprio figlio magari l'aspetto economico può anche essere no no assolutamente però nel senso non è un un tipo di alimentazione che richiede un esborso in più da parte della famiglia per cui preferisco magari il fatto in casa perché mi costa meno no 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 assolutamente questo non è il motivo diciamo che le miscele interali classicamente intese offrono la fonte da proteine animali perché la fonte è il latte gli alimenti naturali possono avere fonti proteiche anche vegetali e possono avere quei gusti e sapori che invece non ci sono nelle miscele enterali classicamente dette che come ho detto hanno gusto neutro questi gusti e sapori possono andare a sollecitare i recettori olfattivi quelli del dell'odore no che non sono soltanto nel naso come possiamo pensare ma sono distribuiti ovunque nel tratto gastroenterico e sono addirittura più popolosi rispetto ai recettori del gusto stimolando questi si può promuovere un po' la motilità del tratto gastroenterico in qualche caso di fatto queste esperienze nascono dai bambini con scarsissima tolleranza alla nutrizione interale dove si è cercato ogni tipo di soluzione nascono proprio da lì dopodiché questa è una una speculazione si chiama in termini scientifici nel senso che noi sappiamo che i recettori fanno questo ma nessuno ha dimostrato che di fatto succede questo e come questo avviene possiamo ipotizzare che succeda per questo motivo qua e possiamo ipotizzare anche che noi sappiamo ci sono anche recettori del gusto anche nello stomaco e non soltanto in bocca quindi qualche cosa che io ricevo anche nello stomaco quella sensazione di gusto diverso o se non altro di gusto vario può darmi dei benefici quindi ci sono delle cose che ed è per questo che sono state concepite alcune miscele enterali preparate dall'industria con alimenti naturali a base di alimenti naturali che insieme ai benefici dell'alimento frullato ci danno anche la composizione nota e la composizione utile anche dal punto di vista delle calorie delle calorie delle proteine dei grassi quindi non rischio di integrare con qualcosa di cui non conosco esattamente ma il mio tema invece era più un tema legato alla sicurezza alimentare la paura di inserire per sonda dei contaminanti di attivare delle infezioni ma non so forse perché prendendoli da un ambiente meno sterile ma questa era una paura tutta mia che non conosco questo mondo questo ovviamente è vero nel senso che le miscele enterali sono sterili mentre le altre possono essere contaminate possono essere fonte di perché gli alimenti naturali non sono e cambia qualcosa se inserisco qualcosa di contaminato direttamente allo stomaco rispetto a fargli fare tutto il tragitto dalla bocca sì nel senso che la saliva ha anche delle che c'è in bocca anche delle capacità diciamo così antisettiche che combattono ovviamente non cariche microbiche incontrastabili questo no si parla sempre di cut off di livelli che possono essere superati o no ma al di là di questo ci sono due caratteristiche anche degli alimenti naturali che dobbiamo ricordare prima che sono di consistenza tendenzialmente più viscosa rispetto a quello di una miscela interale no e questo rende più difficoltoso il passaggio nella sonda quindi devono essere diluite tanto se sono diluite tanto diventano ipocaloriche ok l'altra cosa è che non non so anche se è nota la composizione della miscela degli alimenti che uso io non sarò mai sicura della composizione di quell'alimento perché la carne del macellaio sotto casa ha una composizione quella del allevamento intensivo ne ha un'altra se lo compro al supermercato diventa diversa insomma l'alimentazione naturale è così non è fatta di cose precise cosa che invece le miscele interali lo sono ora va tutto bene quando si è diciamo soggetti normali senza fragilità quando invece si è pazienti malnutriti pazienti con mille fragilità e difficoltà io ci penserei molto bene a buttarmi nel campo dell'incertezza però noi sfruttiamo vogliamo sfruttare e questo fa parte anche del nostro bagaglio di conoscenza ormai i dati positivi gli elementi positivi che sono quelli che ho citato prima degli alimenti naturali quindi questo non è che lo vogliamo ignorare va messo nel comune sapere e va utilizzato con sapienza anche perché può essere di stimolo per tutto il mondo dell'innovazione della ricerca che riguarda anche appunto lo sviluppo di nuove formulazioni di nuove ricette quindi è utile anche per quello allora Antonella io credo che abbiamo raggiunto il record di intervista perché non ti ho fatto bere non ti ho fatto respirare neanche di lunghezza di intervista su Fight the Virus però mi faceva piacere spero sia stato interessante no assolutamente utile io continuerei ad ascoltarti no mi faceva piacere chiudere con qualche tua indicazione pratica o raccomandazione su quella che è la vita quotidiana delle persone delle famiglie quindi questi sono bambini che frequentano scuole frequentano attività e riabilitazioni sportive sport adattati com'è la gestione della nutrizione interale e se c'è qualcosa che possiamo fare anche noi no tu ci raccontavi in passato anche di momenti di formazione con le insegnanti nelle scuole quindi se vogliamo chiudere con questo queste raccomandazioni beh abbiamo fatto grandi passi avanti anche in questo come dicevamo prima grazie anche agli strumenti che possiamo usare sulla diciamo a cappello di tutto ciò sta il fatto che ogni terapia viene fatta per regalare possibilmente al destinatario della terapia la migliore qualità di vita possibile altrimenti diciamo non avrebbe molto senso tutte le procedure anche il semplice fatto di inviare tra virgolette al domicilio questa terapia ha questa finalità come prima cioè di reinserire il bambino nel nucleo familiare nella vita sociale eccetera ma bisogna essere anche aperti alla vita sociale alla scuola alle vacanze a tutto quanto tutte le persone sono sempre più perché ci sono gli aiuti sul territorio ci sono i nuclei di assistenza domiciliare ci sono le insegnanti di supporto che possono essere nostri alleati nel fare nel fare questo nel nostro nella nostra regione c'è un provider per la consegna a domicilio dei materiali e questo provider si fa parte della gara di capitolato consegnerebbe i materiali anche su luoghi di vacanza su tutto il territorio nazionale perché sono abbastanza ingombranti diciamo come se uno deve partire per un mese di vacanze si dovrebbe portare dietro scotte certo ma poi bisogna garantire la temperatura farli viaggiare a temperatura corretta e quant'altro quindi esiste anche questa questa possibilità come ho detto esiste la possibilità di noi siamo a disposizione a diciamo insegnare o ad addestrare ecco oltre ai genitori anche altre persone che possono prendersi cura del bambino prima di mandarli a casa tutti i nostri caregiver chiamiamoli così senza escludere né zie né nonni né chiunque volesse essere diciamo parte del team un addestramento quindi sapere esattamente cosa bisogna fare andare a casa già consapevoli di quello che è il oltre a dare poi ovviamente la disponibilità della nostra referenza esiste però anche un manuale del paziente in nutrizione interale che fornisce notizie proprio pratiche tecniche ben fatte che si trova e si può scaricare gratuitamente dal sito della home page della nostra società della SIGEMP nella home page di SIGEMP www.sigem.org si va nella prima pagina e c'è un posto che si chiama giorno dopo giorno e lì dentro c'è il manuale di nutrizione interale addirittura tradotto anche in cinese e in arabo oltre che in italiano e lì ci sono è molto ben fatto è stato reso diciamo anche molto attrattivo dal punto di vista dell'editoria con l'aiuto della nutricia e per cui può essere veramente una lettura esatto bene a indicarcelo perché poi magari lo lasciamo anche iscritto su questo video che poi sarà distribuito online sarà su youtube per cui sarà accessibile a tutte le famiglie penso i pediatri lo conoscano tutti ma anche le famiglie lo possono scaricare gratuitamente non è necessario essere soci è proprio sulla prima pagina senza registrazione va benissimo Antonella io ti ringrazio perché è stato l'inizio di un di un viaggio ti direi che mi è venuta fame a quest'ora a forza di parlare di alimentazione e sappiamo appunto dicevo che all'inizio di un viaggio perché poi ci accompagnerai anche nella descrizione sul nostro sito web di alcune FAQ di alcune domande più specifiche alle quali risponderei in modo che siano assolutamente accessibili poi per per tutti anche per chi vuole maggiori approfondimenti grazie ancora davvero grazie a voi grazie del del pensiero e del lavoro che fate che è veramente prezioso alla prossima allora grazie ciao ciao